vorrei a questo punto concludere il discorso che abbiamo iniziato la settimana scorsa sui sistemi informativi di management parlandovi di un'altra tecnica diciamo gestionale comunque a metà tra gli aspetti gestionali e quelli di sistemi informativi la tecnica si chiama balanced score cards l'idea è che nel momento in cui devo gestire un'azienda soprattutto da un punto di vista strategico quindi non sto parlando dei middle manager ma sto parlando del livello strategico osservare soltanto gli aspetti finanziari è limitativo in generale io posso agire sugli aspetti finanziari soltanto parzialmente escludendo tutte le attività illegali io non posso agire direttamente sul fatturato in qualche modo posso abbassare i prezzi alzarli però sostanzialmente guardando solo l'aspetto finanziario non ho possibilità di agire direttamente su quelli che sono gli indicatori finanziari per cui di solito quello che si fa è di allargare il punto di vista e agire su più aspetti diversi che non siano esclusivamente quelli finanziari quindi l'idea che è stata proposta in articolo del 92 sulla Harvard Business Review propone di andare a osservare l'azienda sotto quattro aspetti distinti quello finanziari quello finanziario i clienti i processi interni e gli aspetti di innovazione e apprendimento miglioramento interno fondamentalmente questi quattro aspetti rispondono a quattro domande per quanto riguarda l'aspetto finanziario la domanda che ci poniamo è per avere successo da un punto finanziario come dobbiamo presentarci ai nostri azionisti? la risposta potrebbe essere aumentando i dividendi però questo è soltanto uno degli aspetti clienti per raggiungere quella che è la nostra vision la nostra prospettiva aziendale come dobbiamo presentarci nei confronti dei nostri clienti abbiamo poi un'altra prospettiva che è quella interna e per poter soddisfare sia i nostri azionisti che i clienti i quali processi dobbiamo eccellere e come facciamo per eccellere questi processi il quarto aspetto riguarda l'innovazione e la domanda a cui risponde è per raggiungere la nostra vision come riusciamo nella nostra azienda a cambiare migliorare le nostre attività per ciascuna di queste quattro prospettive l'idea è definisco degli indicatori che mi permettono di misurare che cosa succede quindi per ognuna di queste prospettive io avrò degli obiettivi di tipo finanziario di relazioni verso il cliente da un punto di vista di processi interni da un punto di vista di innovazione a fronte di questi obiettivi andrò a definire degli indicatori per ogni indicatore definirò quello che è un obiettivo l'indice di soddisfazione dei clienti deve essere al 90% i dividendi di quest'anno devono essere almeno il 3% superiori a quelli dell'anno precedente e dato un obiettivo un indicatore il goal il target che noi ci poniamo per quel particolare indicatore decidiamo quali azioni intraprendere per poter raggiungere quell'obiettivo ecco qui sta l'aspetto di pianificazione strategica quindi questo è il diagramma classico che riassume l'approccio delle balanced core cards quindi ho una visione ampia che riguarda tre diverse quattro diverse prospettive per ogni prospettiva ho degli obiettivi che io voglio raggiungere e per raggiungere quegli obiettivi ho devo raggiungere un certo punteggio rispetto agli indicatori o misure che definisco per questi obiettivi ovviamente questi indicatori sono tendenzialmente degli indicatori di livello alto che abbracciano tutta l'azienda ok un middle manager difficilmente si occupa a tutto tondo di questi diversi aspetti normalmente questa è una occupazione dei manager di alto livello che fanno all'appunto pianificazione strategica esempio di indicatori che possono essere utilizzati per un approccio di questo tipo sono ad esempio per quanto riguarda gli aspetti finanziari il flusso di cassa il ritorno sull'investimento i risultati finanziari il ritorno su capitale il ritorno in equity per quanto riguarda i customer abbiamo la customer satisfaction quindi che il poi il KPI classico di qualità misurato sull'output la quota di mercato in generale la qualità del nostro prodotto servizio e gli indicatori di servizio lead time ad esempio se andiamo a vedere le altre due le altre due prospettive dell'approccio balance for card tra gli aspetti interni abbiamo il numero di attività che vengono svolte opportano il success ratio rate l'accident ratio ma infatti indicator classici in funzione dei processi che utilizziamo quindi il carico di lavoro la disponibilità del servizio la qualità del servizio da un punto di vista di innovazione di miglioramento ad esempio possiamo andare a vedere i tassi di investimento i tassi di malattia la percentuale di promozione interna il ricambio degli impiegati il rapporto tra i generi dell'azienda quindi tutti aspetti che non sono direttamente legati al risultato finanziario ma ragionevolmente rappresentano un miglioramento e aspetti innovativi la quota di investimenti su ricerca e sviluppo potrebbe essere un altro indicatore in questa area quindi l'idea è che il mio sistema informativo dovrebbe proporre fornire ai manager ai top manager quella che è una dashboard un cruscotto in cui sono indicati i risultati degli indicatori selezionati per queste quattro prospettive quella finanziaria quella dei clienti quella interna e quella di innovazione quindi lì dentro io vorrei vedere degli indicatori che mi dicono come sta andando la mia azienda se sono vicino o lontano dal raggiungimento degli obiettivi che mi ero prefissato per ciascuno degli indicatori per capire eventualmente quali azioni intraprendere per correggere la tendenza se non è quella che mi aspetto buona parte di questi indicatori che abbiamo visti prima richiamano i KPI di cui abbiamo parlato la volta scorsa quindi l'approccio balance score card non è un approccio alternativo a quello dei KPI tendenzialmente l'approccio balance score card viene utilizzato a livello alto strategico mentre invece l'idea dei KPI nasce dal punto di vista un po' più basso di management dei processi ma ovviamente ci sono alcuni indicatori che sono comuni perché quelli che sintetizzano l'andamento di un particolare processo le prestazioni di un processo sono poi quelli gli stessi che sono utili a livello più alto per capire come stanno andando le cose e per pianificare le azioni dell'azienda quindi il punto chiave di tutto ciò è riuscire a identificare e definire quelli che sono gli indicatori più utili definirli è il primo passo calcolarli e recuperarli interno del sistema informativo o aggiungendo degli elementi al sistema informativo è il passo successivo in modo che questi possano essere forniti a chi ne ha bisogno middle manager piuttosto che senior o top manager che serve un ok io ho detto che ho che ho 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 Grazie.